è stato mattarella a dirci che non si fa il governo mi immagino anche un video di conte che parte subito ragazzi questo governo non lo volevo fare salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video io sono bovan peso e finalmente oggi possiamo parlare di quello che è successo in questi giorni wow quante cose sono successe in giro di una settimana devo ammettere che la politica italiana sta diventando ancora più divertente di youtube italia sul serio sembrano veramente dei piccoli youtuber che si dissano tra di loro meraviglioso meraviglioso e il nostro presidente della repubblica mattarella ha detto savona ministro dell'economia no questo governo non sa da fare in realtà ha detto solamente che questo ministro non va bene non è che non si deve fare il governo solamente che questo ministro non va bene ovviamente la lega e i 5 stelle sono esplosi è successo veramente un putiferio in giro di due tre giorni però la mossa di mattarella entrerà decisamente nella storia della politica italiana e alla faccia di tutti coloro che sostenevano che il ruolo del presidente della repubblica era marginale no non funziona così a me sinceramente di avere un nuovo governo non è che interessa poi così tanto perché ragazzi siamo stati per quasi quasi tre mesi senza governo quanto si stava bene ragazzi quanto si stava bene vedere questi che si scannavano in televisione sui talk show dappertutto quanto era bello questo tira e molla tra salvini e di maio che meraviglia che meraviglia e devo ammetterlo io sinceramente volevo che si formasse questo governo nonostante non sia un sostenitore grillino e tanto meno di salvini lo volevo vedere questo governo sul serio immaginatevi quanto materiale sarei riuscito ad accumulare per delle vignette da adesso a cinque anni forse cinque anni quindi sono leggermente triste ma sono soprattutto triste per una figura per un personaggio che sinceramente a me è rimasto nel cuore ovvero giuseppe con questo uomo affascinante con questo sguardo alla ryan gosling era l'uomo perfetto ragazzi affascinante perfino il nostro macron gli ha telefonato facendogli complimenti augurandogli buona fortuna no ha rinunciato all'ultimo e ce lo stiamo già dimenticando io sono qui per fare questo video per continuare a ricordarcelo anche perché voi forse non ve ne siete accorti ma questo in giro di una settimana è diventato una web star sul serio ragazzi la sua pagina ha accumulato più di 120 mila like anche la spuntina blu che ufficializza la sua pagina per dire che è lui ragazzi è giuseppe conte per perfino su instagram è meraviglioso segui lo voglio seguire lo voglio seguire bellissima la foto lui che parla al telefono è palesemente finta la foto non sta chiamando nessuno però è meravigliosa questa foto è più finta dalla foto di blur insieme a ciccio gamer che si abbracciano con davanti il curriculum ovviamente da aggiungere alcune informazioni e no non la faccio la battuta che faccio aggiungo anche che sono stato premier non non la faccio l'hanno detta già tutti non non è più divertente basta si vede che era pronto pronto no non è successo nulla è stata un'illusione conte non sarà prendere però ragazzi lui e con il suo profilo instagram da quasi 20 mila follower dobbiamo dire che ormai si è lanciato secondo me il suo obiettivo era quello diventare una voce rimbombanti in questo lungo corridoio chiamato social come sono poetico lui in una settimana diventato in realtà quello che voleva una web star e a questo punto mi sono detto ma se il nostro amico giuseppe conte diventasse anche un youtuber che tipo di video farebbe per riuscire ad arrivare in tendenza bisogna anche ripercorrere quelle che sono le mode come ad esempio the floor is governo come vediamo il nostro carissimo amico giuseppe conte neo youtuber super quotato evita in tutti i modi di calpestare il governo e come ho detto prima è anche un uomo affascinante quindi cercherà di proporre video in stile fashion blogger video paul 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 scusate 10 lauree che non sai di me è anche il nostro amico giuseppe conte ad un certo punto pur di ottenere quella visualizzazione in più cercare di non perdere di popolarità dovrà adattarsi al suo pubblico senza arrivare al punto di fare piagnistei inutili joker cerca di soddisfare il proprio pubblico con i classici spacchettamenti opening pack challenge se non esce savona scarto il governo meraviglioso intervista doppia questi giochi di parole mi stanno anche leggermente sulle palle però giustamente anche il nostro giuseppe conte pur di arrivare al pubblico ancora più giovane ancora più più piccolo cerca di plasmare quelli che sono i contenuti canali popolari fra i pischelli come ad esempio il me contro te me con te me con te sono stato rapito dal signor s e sappiamo tutti ad un certo punto come tutti i youtuber arriverà ad un momento di crisi quando caleranno le idee e quindi cercherà di portare nuovi format nuova serie non sapevo di essere laureato ci può stare ci può stare ovviamente come tutti gli youtuber per arrivare al grande pubblico ma soprattutto a quello giovane giustamente deve cercare di attirare anche con dei video accattivanti click bite mi hanno uscito le meloni in chat non è uno scherzo giuro che quando me l'han detta sta cosa non smettevo più di ridere ero lì in live che lacrimavo passo la notte al quirinale ma i corazzieri mi arrestano questa questa è meravigliosa veramente ok rincariamo la dose video speciale per i 400 miliardi di debito pubblico siete malati mi hanno uscito la mattarella in chat no click bait e ovviamente il nostro conte riprende quelle che sono le vecchie mode anche vlog cosa c'è nel mio curriculum un classico ok ragazzi finiamo da qua possiamo veramente continuare all'infinito anzi qui sotto nei commenti suggeritimi voi dei titoli assurdi in grado di rappresentare quello che il canale o un probabile canale youtube del nostro amico giuseppe conte perché ormai è una web star ragazzi io adesso lo seguo su tutti i social metterò like e il cuoricino su ogni post che farà anche post inutili anche no non è vero dai forza forza siamo tutti con te prima di chiudere ovviamente vi voglio ricordare che all'etna comics non ci sarò e quindi perché ve lo sto dicendo è perché me lo state chiedendo in tanti e in più se avete la possibilità andateci perché ci sarà il terzo volume di nazi vegani è finalmente finito io don alemanno abbiamo chiuso definitivamente questa epica avventura per chi non potrà andare all'etna comics a prenderlo lì dal vivo e farselo firmare e farsi scappellare da don alemanno potete trovare il link amazon qui in descrizione per poterlo ordinare l'etna comics è decisamente una delle mie fiere preferite e quest'anno ho contribuito alla creazione all'organizzazione del palinsesto della youtube alle quindi cercate di andare anche lì vedrete tantissimi ospiti interessanti andate sul sito potete vedere l'elenco dei youtuber presenti vi divertirete tantissimo e poi cerchiamo di fare un piccolo scherzo domani che dite durante il film a coppie lui vi chiederà sempre allora dimmi il tuo animale preferito e vi disegnerà un animale a vostra scelta che fa il saluto nazista tanto per così per la serie animali nazisti e dove trovarli quindi cercate di metterli in difficoltà cerchiamo un animale impossibile da disegnare la gerboa o il gerboa ragazzi andate da don alemanno fammi un gerboa nazista trovate la foto con a fianco per vedere che tipo di animale e non sapevo neanche dell'esistenza di questo coso la gerboa o il gerboa andate lì quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione noi ci vediamo la prossima volta questa bellissima maglietta l'ho presa da pampling avete il 15 per cento di sconto se scrivete boban 15 trovate il link in descrizione mi raccomando usatelo e troverete tantissime belle magliette nerdose grazie mille andate in pace